Ciao a tutti, io sono Camillo e questo è il video dell'estrazione per il contest organizzato da The Apple Lounge in collaborazione con Proporta. Estrarò un numero con il sito random.org, un numero compreso fra 1 e 52, perché 52 è il totale dei commenti, e elimineremo nell'eventualità dovessero uscire questi numeri, il 18, il 30, il 38 e il 43, perché appartengono a commenti che non contengono un'idea e quindi non sono validi per il nostro contest. Andiamo su random.org e quando premerò il tasto Get Numbers, vedrete comparire un numero, quello sarà il numero del commento vincitore. Faccio un po' di zoom per farvelo vedere meglio, ed ecco il vincitore, il 13. Non è uno dei numeri da eliminare e quindi andiamo a vedere chi è il nostro vincitore. Si tratta di Mestieri Edoardo, quindi complimenti ad Edoardo e mi raccomando voi rimanete con noi perché la prossima settimana, al più tardi, organizzeremo il nuovo contest con l'idea del vincitore e quindi ci saranno nuovi premi, sempre in collaborazione comproporta per tutti voi. Alla prossima!